Numero 4. Con la potenza di un motore a due tempi e un afflusso idrico fino a 8000 litri all'ora, questa pompa centrifuga portatile è una scelta professionale per qualunque esigenza di irrigazione. Con un'altezza di aspirazione di 8,5 metri e connettori da un pollice in e out, è perfetta per giardinieri, proprietari di case o anche per i padroni di barche. La garanzia di 24 mesi garantisce che potrai godere dei vantaggi di questa pompa per lungo tempo. Portatile e potente, è un accessorio indispensabile per chi ama avere un giardino curato e ben irrigato. Se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo, clicca il link in descrizione. Numero 3. Questa pompa centrifuga da giardino in acciaio inox è un dispositivo efficiente e versatile, perfetto per chi ama prendersi cura del proprio spazio esterno. Grazie alla sua portata massima di 2950 litri all'ora e alla massima prevalenza di 42 metri, è in grado di gestire senza problemi l'irrigazione del giardino o lo svuotamento di stagni o laghetti. Ma non è solo la sua potenza che la rende una scelta ideale. Il design ergonomico con impugnatura rivestita in gomma e il pratico pulsante di accensione e spegnimento la rendono facile e comoda da utilizzare. Inoltre, la sua portabilità la rende perfetta anche per chi ha bisogno di spostarla frequentemente. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto, clicca il link in descrizione. Numero 2. Questa pompa centrifuga è una vera e propria gemma per chi desidera un sistema di irrigazione efficiente e compatto per il proprio giardino. Con un motore da 650 watt, è in grado di pompate fino a 3800 litri di acqua all'ora, soddisfacendo facilmente le esigenze di giardini di medie e grandi dimensioni. Dotata di un interruttore di accensione e spegnimento, la pompa è estremamente facile da utilizzare. Inoltre, grazie alla vite di immissione dell'acqua separata, è possibile riempirla in modo più pratico e veloce. In descrizione trovi il link di questo prodotto. Numero 1. Questa pompa centrifuga è un dispositivo potente e affidabile che può essere di grande aiuto in numerose situazioni. Grazie alla sua potenza di 1000 watt, riesce a pompare fino a 300 litri di acqua di processo all'ora, rendendola ideale per un utilizzo domestico o professionale. Una delle caratteristiche più interessanti di questa pompa è la capacità di aspirare l'acqua da una profondità massima di 7 metri. Questo significa che può essere utilizzata per estrarre l'acqua da un laghetto, un pozzo, una cisterna o addirittura dall'acqua corrente. Inoltre, grazie alla sua versatilità, può essere utilizzata anche per scopi diversi, come irrigazione o drenaggio. Trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video. Grazie a tutti! Grazie a tutti!